Tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare una torta direttamente mescolando gli ingredienti dentro la tortiera. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno un uovo, un bicchiere di farina, mezzo bicchiere di zucchero, mezzo bicchiere di olio, mezzo bicchiere di acqua, mezza bustina di lievito per dolci e un cucchiaino aroma vaniglia. Quindi per prima cosa setacciamo i secchi, gli ingredienti secchi, dentro la tortiera rivestita da carta forno. Quindi tutta la farina, la mezza bustina di lievito per dolci e tutto lo zucchero. A seguire aggiungete l'aroma, l'olio, l'uovo e tutta l'acqua. Quindi sbattete con un crostino. Mescolate poi con una spatola per evitare gli eventuali grumi o farina che si è depositata sul fondo. Quando vedrete che farete così e non ci sarà più farina, il composto sarà pronto per essere infornato. 180 gradi per 30 minuti, 30-35 minuti. Fate sempre la prova a stecchino per vedere se il dolce è perfettamente cotto. ecco la torta pronta. Adesso la spolverizzo con lo zucchero a velo tutta la superficie e vi faccio vedere la consistenza al suo interno. Guardate che bella! morbida? Spero che questa videoricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Un bacio a tutti!